San Daniele del Friuli apre le proprie porte anche al ciclismo femminile. Si corre infatti la prima storica edizione della Coppa Città di San Daniele Rosa riservata alle donne open. In cabina di regia, come tradizione, l'Unione Ciclistica San Danielesi che ha preparato un tracciato di 91 km disegnato sul circuito del Castello di Rive d'Arcano da ripetere per ben 5 volte. Prima della via una cerimonia toccante al chilometro zero posto proprio nel luogo dove ha perso tragicamente la vita Silvia Piccini con le compagne di squadra dell'UC Conscio a depositare anche un mazzo di fiori in ricordo di Silvia ad abbassare la bandierina del via la sorellina e la mamma di Silvia Piccini. Una manifestazione, dicevamo, che apre al mondo femminile le strade del Friuli Venezia Giulia e in particolare di una città ricca di passione per il ciclismo come San Daniele del Friuli. Una gara subito molto combattuta, quella che al chilometro 30 vede evadere un drappello di 11 unità. Si tratta di Matilde Vitillo, Silvia Zanardi e Marchetta Aikova della B-Pink, Gaia Segato della Breganze Millennium, Carmela Cipriani della GB Team Paul Cantu, Gaia Realini della Isolmant Premac, quindi Eva Gatschker della Mendelspec, Greta Marturano, Giorgia Bariani, Alessia Vigiglia della Top Girl Fassa Bortolo e di Francesca Pellegrini della Valcar Travel & Service. Da questo drappello riescono ad evadere in tre, si tratta di Matilde Vitillo, Greta Marturano e Gaia Realini che chiudono sul traguardo di San Daniele proprio nell'ordine. Quindi successo a Matilde Vitillo che precede Greta Marturano, Gaia Realini, Quarta piazza per Silvia Zanardi, quindi Francesca Pellegrini, Carmela Cipriani, Marchetta Aikova, Gaia Segato, Giorgia Bariani e Alessia Vigilia. Tra le Juniores ad avere la meglio è Francesca Pellegrini della Valcar Travel & Service che precede quindi Gaia Segato della Breganze Millennium e Delisa Valturini della Canturino 1902. La prima Coppa Città di San Daniele e Rosa può quindi andare in archivio con un altro successo organizzativo da mettere in bacheca per l'UC sandanielesi. Che dire, è andato tutto per il meglio? È andato tutto per il meglio e eravamo nella fuga giusta, io ero con altre due mie compagne e poi appunto siamo andate via in tre, sono riuscita a reggere gli strappi e arrivati all'arrivo ho dato tutto quello che avevo e è andata sicuramente bene, meglio di quanto mi aspettassi. La dedico decisamente a tutta la mia squadra che mi ha sempre supportato, sia in questa gara che in tutte le altre e alla mia famiglia che mi segue sempre e purtroppo oggi non c'è, tutti i giorni, tutte le gare sempre presenti, oggi no, però gliela dedico, quindi un grazie veramente a tutti. Grazie.